Il castello di Brindisi Non si parla, la sovrintendenza non ha chiarito i termini legati alla sua nuova inaugurazione e non ha neanche determinato le condizioni di fruibilità dello stesso bene. Va detto che prima dei lavori di ristrutturazione e di restauro il castello è rimasto aperto, affidato all'associazione Le Colonne e i turisti sono arrivati da tutte le province della Puglia, nonché i croceristi e gli altri turisti che sono arrivati da altre parti d'Italia e sino anche dall'estero. E allora perché continuare a tenerlo chiuso anche perché i lavori sono pressoché conclusi ormai da mesi? Perché non fare chiarezza e soprattutto perché non dare informazioni ai cittadini di Brindisi che considerano questo castello come un biglietto da visita della città? Lo si vince anche dai tanti visitatori arrivate da molte regioni del centro-sud del Salone Nautico di Puglia che avrebbero voluto visitare il castello e invece purtroppo lo stesso maniero resta chiuso.